Ciao ragazzi, bentornati, welcome back, Stefano Parenti, personal trainer a Londra. Oggi, come mi è stato richiesto da tantissimi, come evitare di fare gli esercizi in maniera sbagliata, perché come noi sappiamo la forma è essenziale in ordine di far crescere il muscolo. E voi mi direte sempre, ah ma se io non carico di più i miei muscoli non cresceranno, e quindi devo cercare di utilizzare dei pesi che io non gestisco, devo aumentare la forza, devo aumentare più forte, devo inarcare la schiena, devo fare lo squat a tre quarti e bla bla bla. Ricordiamo che il muscolo cresce quando il muscolo cresce rispettando una e sola regola. Poi il resto che voi dite, voi pensate, non gliene frega assolutissimamente nulla. Il muscolo rispetta solo una regola. Stretching e squeezing. Si streccia e si contrae. Distende e contrazione. E al resto non gliene frega niente. Non sa quanto peso mettete, non sa se voi stare facendo delle mezze ripetizioni perché dovete stimolarlo di più. A lui non gliene frega niente. Lui lo percepisce come mezza contrazione. Punto. Questo è un sistema semplice per capire come effettivamente funziona il nostro muscolo. Oggi andiamo ad analizzare la maggior parte degli errori che vengono commessi in palestra su esercizi multiarticolari e non e una soluzione per evitare di fare questi determinati errori che ci impediscono di crescere. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, condividetevi con i vostri amici che sicuramente ne trarranno un estremo beneficio in ciò. E vi garantisco che tutti, tutti, indistintamente tutti, correggendo questi esercizi, andrete ad accrescere il vostro fisico, la vostra fisicità, massa muscolare. Allora, il primo tra tutti, lo squat. Quante volte, anche qui a Londra, ma soprattutto in Italia, vedo persone che caricano sullo squat tantissimo e magari vanno anche profondità. Non vuol dire profondo, non vuol dire sempre che tu lo faccia in maniera corretta. Quando con la schiena si va tutto in avanti, anche comunque vedo ragazzi su YouTube che pubblicano video riguardanti a massima di squat con 180, 200 e bla bla bla, vi discorrendo. Vanno giù profondamente, ma la schiena è troppo propensa in avanti. E cosa si va a attivare di più? Se il nostro obiettivo è quello di aumentare volume sui quadricipiti, facendo, utilizzando questa strategia, innanzitutto andiamo a gravare sulla nostra spina dorsale, ma togliamo questo. Ma andiamo a fare comunque, ad attivare maggiormente i glutei. Questa è una forma prevalentemente che utilizzano le donne per aumentare hamstring, bicipiti femorali e glutei. Non è importante, rilevante per quanto riguarda i quadricipiti. Cosa consiglio e cosa faccio fare io ai miei atleti face to face quando li alleno? Li metto davanti allo specchio. Esattamente, spiaccicati allo specchio. E loro scendono e ogni volta che tendono ad inarcare la schiena, danno le facciate sullo specchio. Perché, come dice Tom Platz, jump in the water. Quando tu ti tuffi a candela, ti tuffi dritto. E così è lo stesso lo squat. Jump in the water, dritto. È un lavoro di elasticità, è un lavoro di stretching dei quadricipiti e di contrazione dei quadricipiti quando si sale. Provate a fare questo. Levate l'ego. Provate solo con la barra. Prendete solo esclusivamente la barra. Ponetevi davanti a uno specchio. Ovviamente dovete avere lo spazio per non urtare le ginocchia allo specchio. Ma mettetevi lì davanti allo specchio, con lo spazio appunto del piegamento delle ginocchia. E vedrete. E ogni volta che tendete ad andare avanti, riaddrizzatevi. E sentite il quadricipite allargarsi completamente. Perché così, quando noi andiamo giù dritti, in questa posizione, mantenendo sempre un arco lombale. minimale anche, sentite il quadricipite completamente diratarsi, completamente sentire lo stretch del muscolo completo. Tutto. E quando salite, si contrae totalmente sui quadricipiti. Non sentirete più quei problemi che molti di voi mi lamentate con la schiena e via discorre. Ma io con lo squat sento molto di più lavorare i glutei. E adesso capisco perché le donne sempre consigliano... No, non è questo. Nello squat dovete sentire i vostri fucking quadricipiti. Punto. Nel front squat è diverso quello che abbiamo la barra qui. Quello ci dà appunto la possibilità di lavorare i bicipiti femorali in maniera migliore. Ma questo è un altro discorso. Seconda cosa, standing curl o il curl con il bilanciere per quanto riguarda i bicipiti. Molti di voi usano dei pesi estremamente assurdi. Non anche lo gestiscono. Io ho visto comunque anche video via discorrendo. Non vediamo solo video, ma anche la normalità. Forte su e poi boom! Subito tutto giù. Inarcamento della schiena totale. Infortuni a non finire. Poi tutti che finiscono... Oh mio Dio! Oh mio Dio! La schiena! La schiena! Non me la sento più. Certo che non la senti più. Consiglio che vi do. Attaccatevi al muro. Al muro. Attaccatevi con la schiena al muro. Gomiti al muro. E tirate su solamente con gli avambracci. Allora sì che sentirete i bicipiti. Ma, devo essere chiaro e preciso, sentirete questa parte del bicipite. Questa qui. Quando poi stacchiamo leggermente i gomiti dal muro e contraiamo, facciamo un lavoro più completo perché andiamo a lavorare su tutta, su tutto il bicipite. E quindi è molto diverso. Provate per credere. Applicatelo. Diminuite il peso. Sentite lavorare il muscolo. Noi siamo dei bodybuilders, costruiamo muscoli, non ce ne frega niente. Se io posso sollevare un chilo e crescere, ma che me ne frega. Sollevo un chilo e cresco. Non sono un powerlifter che devo assolutamente diventare forte. Poco mi interessa della forza. L'importante è che la forza ovviamente aumenta. Ma quello che a me mi interessa è la costruzione della massa muscolare. Poi andiamo a vedere l'ultima cosa per quanto riguarda il petto. Ce ne sarebbero milioni di cose da dire, ma mi fermo solo in queste basilari consigli. Il petto, specialmente ai cavi. Vedo molti che tendono sempre le spalle prone, anche in fase di chiusura. Prone. Un consiglio che vi do. Quando fate per esempio i cavi bassi, quel che sia. Partiamo da così. Quando siamo in una fase di stretching, andiamo anche leggermente in avanti. Andiamo in avanti e sentiamo il petto aprirsi in maniera completa. Quando andiamo nella fase di contrazione, lasciate le spalle all'indietro e tornate in una posizione dritta con la schiena. Sentite, percepite il petto stringersi, contrarsi totalmente con le spalle indietro, lasciandole lontane, lontane dal lavoro. Non gli deve interessare cosa stiamo facendo alle spalle. È il petto che comanda. Quindi stretch, tutto indietro. Porto in avanti, spalle all'indietro, retratte all'indietro. e pum, petto. Così, tengo anche due secondi e poi rilascio. Questi sono dei consigli che fidatevi che se li applicate andrete a guadagnare massa muscolare. Da qui ad un mese, assicurato, levate l'ego sui pesi. Non c'entra il peso. C'entra come voi riusciate a coinvolgere il muscolo durante l'esercizio e quanto il muscolo sia effettivamente sotto tensione. Se io vado a fare i cavi così, quello che è effettivamente sotto tensione lo vedrete anche voi. Ecco, da qui. Cosa vedete? La spalla. E il petto rimane chiuso. Rimane lì, bloccato. Dov'è il petto? Non cresce. Non cresce. E non crescerà mai. Spalla. Cosa vedete adesso? Il petto. Vedete? Il petto. Eccolo. Spalla lì indietro. Petto che si chiude. Boom. È quello che fa la differenza. Con questo spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un like, mi raccomando. Ciao.